Musica Martedì 5 luglio, buongiorno, ben ritrovati a tutti, cari telespettatori siamo qui come tutte le mattine per leggere i giornali lo faremo tra poco con i titoli delle notizie più importanti dei quotidiani che trovate come sempre in edicola cominciamo dal calendario, il santo del giorno oggi è un santo del 1500 stiamo parlando di Sant'Antonio Maria Zaccaria che è stato sacerdote ed è il precursore di San Carlo Borromeo nacque a Cremona nel 1502 il sole è sorto alle 5.28, tramonterà alle 20.55 oggi avremo un cielo sereno un poco nuvoloso per addensamenti culliformi lungo il crinale appenninico nelle ore più calde della giornata avremo locali rovesci nelle zone interne soprattutto sui Sibillini le temperature sono stazionarie e un lieve aumento nei valori massimi è andata bene perché abbiamo una temperatura minima che invece è gradevole rispetto ai giorni scorsi cielo inizialmente poco nuvoloso invece per la giornata di domani mercoledì 6 luglio vedete la grafica ci indica anche la possibilità di pioggia a rovescio temporali sparsi nelle zone interne che poi verranno trascidati verso la costa dai flussi in quota fenomeni che si esaureranno comunque nel tardo pomeriggio quindi domani è una giornata di stop diciamo per l'estate le temperature sono senza variazioni di rilievo poi giovedì invece migliora sulla costa ancora qualche possibilità di isolati deboli rovesci lungo l'appennino nel corso delle ore centrali della giornata per il resto della settimana comunque sarà a tempo stabile ieri mattina vi abbiamo subito dato sul sito internet occhialanotizia.it la tragedia vi abbiamo scritto della tragedia che ha colpito la famiglia Ambrosini un operaio di 44 anni che stava lavorando su una gru alta 20 metri a un certo punto e qui i carabinieri adesso stanno ancora indagando sui motivi di questa tragedia sui motivi di questa caduta un operaio di 44 anni mentre stava su una gru è caduto ed è morto sul colpo di questo parlano i giornali cominciamo dal resto del Carlino questa è la notizia e la foto principale con nel tondo vedete la vittima Gianni Ambrosini un operaio di 44 anni che ha perso la vita cadendo da una gru mentre passava da un cestello all'altro è una tragedia l'ennesima che colpisce uno dei settori più a rischio cioè quello dell'edilizia questa è la prima pagina del resto del Carlino entriamo allora nelle pagine interne su questo incidente sul lavoro il giornale dedica due pagine noi leggiamo quella nella quale si ricorda anche la figura di questo giovane di 44 anni un urlo straziante il titolo poi lo schianto un volo fatale dalla gru per 20 metri a lanciare l'allarme è un collega della Nefa che è un'azienda fanese di vendita in noleggio di gru a torre per l'edilizia per la quale Gianni Ambrosini lavorava da circa 30 anni la titolare della dita dice sono stata fortunata di averci condiviso 30 anni di vita ed ora mi sento già molto sola da pochi mesi Gianni aveva perso anche il padre ed era diventato lui il cardine attorno al quale si era riunita tutta la famiglia e qui permettetemi di aprire una parentesi anche personale perché conoscevo Gianni conoscevo la famiglia il papà di cui ho appreso adesso sul giornale che è deceduto qualche mese fa è stato titolare per lunghissimi anni di una radio che forse ricordano in tanti un emittente che aveva la sede proprio in Via Giardino a Calcinelli, Radio Garden e Gianni era il figlio del titolare insomma dei titolari insieme alla moglie poi di Vincenzo se non ricordo male ecco quindi ne approfitto insomma per anche le condoglianze a tutta la famiglia la moglie adesso alle due figlie di Gianni Ambrosini la struttura è stata sequestrata scrive il giornale l'ora dell'incidente 7 e 56 e questa allora a quell'ora l'orologio quando nella via del centro fanese che si sta animando si sente un lungo urlo straziante che rompe il silenzio del mattino a pochi minuti dall'inizio della messa che alle 8 viene celebrata lì a Due Passi a San Paterniano questa è la notizia così come viene riportata dal resto del Carlino c'è un'altra tragedia quella della povertà che viene raccontata questa mattina sulle pagine invece di Pesaro Primo Piano è morto un uomo un uomo di 51 anni lo vedete in questa immagine in questa fotografia l'uomo del semaforo lo descrive il giornale il corpo era a terra nel parcheggio l'uomo viveva in una vecchia Ford sì avete capito bene in una macchina viveva dentro una macchina era arrivata a Pesaro nel 2004 cercando di rifarsi una vita ma non c'era mai riuscito proveniva dalla Serbia aveva 51 anni una mina gli aveva strappato il braccio sinistro vedete nella fotografia qua a fianco proprio vicino a un semaforo lo vedete mentre indossa questa maglietta arancione senza il braccio sinistro e la Ford invece ecco la sua casa la Ford una Ford abbandonata in via dell'Acquedotto ed è morto ed è morto intorno alle 16 nel piazzale nessuno se n'è accorto solo gli amici di un bar non vedendolo passare come al solito si sono insospettiti e sono andati a cercarlo lo hanno trovato morto sulla ghiaia dietro la sua Ford Mondeo targata Belgrado e ancora le pagine di Fano ricorderete la villa di Via Fanella la villa dove nel 1992 fu sterminata un'intera famiglia quattro persone tra cui due giovanissimi ad uccidere tutta la famiglia era stato un vicino di casa un raptus di follia quella volta nel 1992 ne parlò tutta l'Italia ebbene la notizia di oggi che riporta il giornale sulla pagina di Fano è che quella villa la villa della strage è una di quelle ville che dovrà essere abbattuta per gli espropri della 14 e adesso gli eredi dicono noi dove andremo sono disperati gli eredi di 80 anni sono qui li vedete a sinistra il pidio del vecchio che ha 89 anni insieme alla moglie Anna di Ottalevi di 82 e sotto invece c'è la villa appunto di Via Fanella che qua sotto il giornale ripropone con la foto d'epoca eccola qui la foto d'epoca con il rituale del del trasferimento dei corpi delle salme dentro queste casse fu ucciso da un'intera famiglia dicevo ricorda il delitto il giornale questa mattina il padre Ferdinando la madre Rosa i due figli poco più che ventenni Adolfo e Ivana e c'è tutto il racconto di quella tragica giornata che abbiamo pagina restiamo sempre sul resto del carlino la Mediateca Montanari ha sei anni compie sei anni festa di compleanno con la gluppa l'anniversario ci sono tante iniziative in programma tra sabato e domenica più di 5.000 soci pensate 450 presenze giornaliere 60.000 prestiti l'anno un gioiello verrebbe davvero da dire questa una delle cose che funzionano per fortuna a Fano la Mediateca Montanari la Nautica invece il problema della Nautica anche la Custom Line se ne va la produzione è spostata alla CRN di Ancona lascia Pershing perché ha bisogno di spazi partono 60 operai nel capoluogo ci sono ad Ancona ci sono spazi adeguati strade migliori e anche uno scalo diretto sul mare sotto invece l'Azimut Benetti che continua l'assedio e continua a protestare assedio al comune se riconvoca la proprietà domani l'atteso incontro per tentare di salvare gli 89 posti di lavoro intanto gli operai sfilano in centro il gruppo invita la regione ad aprire un tavolo e propone di riattivare il consorzio navale marchigiano e adesso cambiamo giornale andiamo sulla pagina di Fanno del Corriere Adriatico anche qui vedete le foto che riguardano la cronaca e l'incidente sul lavoro di ieri mattina shock in centro precipita dalla gru e muore sul colpo con tutte le fotografie appunto del luogo anche della gru dove Gianni Ambrosini appunto stava lavorando alla festa della memo con la gluppa sabato la cena per tutti domenica laboratori letture ed eventi poi qua invece sull'aeroporto verifiche sull'aeroporto Fanno Fortuna e commissione di garanzia e poi l'altra pagina di Fanno invece lotta ad oltranza pressing sulle istituzioni la vertenza o meglio il corteo dei lavoratori ieri mattina in via Papiria Fanno due ore di corteo non ci fermeremo vogliamo impedire la chiusura del cantiere di Bellocchi a rischio 88 posti di lavoro oggi doppio incontro con l'assessore regionale alla formazione e il sindaco per il referendum invece sulla sanità c'è poco tempo dicono i 5 Stelle che lanciano un appello al sindaco per l'abbinamento con la consultazione costituzionale anche per risparmiare qualche soldino 60 mila euro per una notte è una follia Conf Commercio critica il Carnevale Rosa va bene il Carnevale ma 60 mila euro spesi in un solo giorno per una singola manifestazione di promozione come l'edizione estiva sono davvero troppi è il commento di Renzo Capecchi presidente della Conf Commercio Fanese devo dire che su questa notte rosa le polemiche anche se a scoppio ritardato ma stanno arrivando soprattutto dopo che è voce comune che insomma non sia stata un granché nascerà una nuova città sulle rive del Metauro siamo a Serrungarina arriva nei consigli comunali la proposta di legge per la fusione di Serrungarina Montemaggiore e Saltara poi a centro pagina invece da Mondolfo un polo primario di cure d'emergenza lo chiede il Comitato per la Salute al Sindaco Barbieri ci aspettiamo dicono quelli del Comitato forte novità nel bilancio cambiamo pagina dalla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico che tra l'altro domani sarà completamente nuovo e quando c'è un nuovo giornale c'è sempre un po' di emozione come diceva giustamente qualcuno questa mattina quindi domani mattina mi raccomando tutti a comprare il giornale insomma il Corriere Adriatico in questa versione già anticipata con una conferenza stampa che raggruppa anche i colleghi del Messaggero quindi il Messaggero non ci sarà più nell'edizione di Pesaro ma sarà insieme il Corriere Adriatico una scommessa editoriale interessante domani tutta da scoprire e chissà che domani non riusciamo anche noi a farvela vedere come una volta con il cartaceo complanare pronta l'ora dei collaudi questa è la notizia in evidenza sul Corriere Adriatico sotto invece il centro soffre aperture eccellenti e chiusure dolorose la pagina di Pesaro invece del Corriere Adriatico è per la spiaggia della Vergogna eccola qua con le fotografie siamo a Fiorenzuola dossier fotografico inviato alla Capitaneria di Porto domenica senza acqua e con i bagni inutilizzabili la società di salvataggio denuncia lo stato di degrado mancano attrezzature e controlli sopra un clochard un senza tetto trovato senza vita tra le auto del parcheggio l'abbiamo visto poco fa anche sul Carlino un senza fissa dimora di 51 anni sotto mercato immobiliare c'è lieve ripresa il punto dell'osservatorio FIAP tiene il residenziale ma per il commerciale è davvero un baratro e ancora dalla pagina di Pesaro Urbino invece dalla città ducale il trio cat salva il sindaco Gambini bocciata per 10 voti contro 7 la mozione di sfiducia ma la giunta è sul filo e questa è la notizia più in evidenza andiamo sul messaggero allora la pagina di Pesaro per l'ultima volta leggiamo il titolo così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi per tanti anni come ci ha tenuto compagnia per tanti anni allora il titolo d'apertura è sulle case in svendita non i negozi il report dell'osservatorio immobiliare evidenzia una costante discesa dei prezzi in centro anche il 20% in meno mentre nella periferia di Pesaro le cifre si dimezzano a centro pagina la tragedia un operaio che precipita dalla gru e muore mentre di qua più a fianco lo trovano morto accanto all'auto che era la sua casa è accaduto in via dell'acquedotto a Pesaro sotto a Marotta un memorial per ricordare Flower il 21 luglio è in programma al cartodromo di Torrette un evento per Marco Fronzi che è per tutti Flower appunto per gli amici 31 anni a cui Marotta ha detto addio lo scorso anno in una mattina di agosto mentre rientrava a casa in moto dopo il lavoro ed è dunque un modo per ricordare una persona che non c'è più e adesso la notizia invece che troverete a pagina 36 del messaggero di oggi con l'anticipazione di quello che vi ho detto poco fa cioè che domani il giornale uscirà con il Corriere Adriatico insieme una fusione che manterrà intatta l'identità dei due giornali il quotidiano delle marche cambia formato e cambia anche tutta la grafica un format al passo con una società che corre e al passo con il web saranno gli unici a proiettare l'immagine della regione in una visione nazionale e dunque c'è questa nuova veste che domani avrà il giornale della famiglia Caltagirone e adesso le case si vendono ma i negozi no velocemente i prezzi continuano a scendere stimolando la compravendita e poi sotto vie per Anna Rita Curina e Sandra Parba Mondaini e Carlo Rosso il nuovo capogruppo Democrat in consiglio subentra Francesca Fraternali eletta segretario del Partito Democratico poi la pagina velocemente la pagina di Fano scusate la pagina di Fano del messaggero eccola qua anche qui la cronaca un operario precipita dalla gru e muore poi sotto Fano svegliati e trova la tua strada senza l'assillo del confronto con Pesaro l'assessore Mascarin interviene sulla sanità e dice la regione deve azzerare gli accordi politici presi negli ultimi anni però interessante questa cosa Fano svegliati trova la tua strada senza l'assillo del confronto con Pesaro è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa ci rivediamo domani mattina come sempre alle 7 e mezzo un saluto naturalmente anche a tutti quelli che ci seguono in replica sino alle 8 e 30 poi alle 9 e 10 alle 13 e 30 e quelli che ci seguono su internet a ogni parte del mondo all'interizzo occhialanotizia.it stasera invece dicevo alle 8 e mezza c'è il telegiornale Occhio alla Notizia buona giornata a tutti arrivederci a tutti